8 febbraio a Marsala si vota per le primarie del PD per individuare il candidato a Sida o la città di Marsala. In Lizza per il primo portore di Marsala all'interno del PD attualmente vi sono due candidati. Ieri abbiamo ascoltato Anna Maria Ingeri, oggi il dottor Alberto Ligidorovo. La candidatura di Alberto Ligidorovo è una candidatura che affonda un po' le radici nel passato, già più di sei mesi fa, accorgendosi che c'era qualcosa che non andava in questa città, aveva messo le mani avanti e il dottor diceva che era disponibile a vagliare ipotesi di mettersi alla prova per rilanciare Marsala. Oggi ne ha la possibilità attraverso le primarie. Dopo la dimissione del sindaco Adamo, per tutte le cose che sappiamo, tutti sapevamo che prima o dopo saremmo andati all'elezione, in questa primavera come succederà. Essere Italia, il più grande partito della città, non può non dare la propria disponibilità. Questo mi è stato chiesto e ho sempre detto che sono disponibile ad alcune condizioni, a condizione che il partito, la società civile e gli altri partiti della coalizione sono d'accordo a una mia candidatura. Adesso si è deciso e abbiamo deciso democraticamente con un dibattito aperto, perché è un partito abbastanza con molte anime, con molta sensibilità, di fare le primarie a Marsala l'8 febbraio in modo che siano i cittadini, tutti, perché tutti possono andare a votare, a scegliere il candidato sindaco del centro-sinistra. Mi sembra, e forse è la prima volta che avviene a Marsala nella scelta del sindaco, rispetto a tre anni fa, quando il candidato sindaco Adama è stato scelto a Palermo, quindi fuori da Marsala, dove 3-4 persone hanno deciso chi candidare, e invece questa volta i cittadini sono tutti chiamati a scegliere tra i candidati del Partito Democratico. Attualmente ufficialmente ci sono io, che sono il segretario, l'avevo detto già da tempo che mi sarei candidato se fossero state le possibilità, le condizioni, Anna Maria Angelere ha detto che si ricandida anche a lei, lei è stata candidata due anni fa insomma, o tre anni fa, adesso vediamo se in questi giorni spunta qualche altro no, perché noi abbiamo dato democraticamente il tempo di raccogliere firme come prevede lo statuto del partito, ma se ci fosse qualche altra candidatura del PD, sempre che raccoglie il 10% delle firme del direttivo, ha diritto a candidarsi, quindi quanti saremo veramente lo sapremo domani sera, giovedì, domani pomeriggio. Ad onore di cronaca ci per sottolineare che si ipotizza la candidatura di Luigi Giacadona, il segretario del CNA, nonché vicepresidente della Camera di Commercio, ma parentesi, a parte questa parliamo invece della sua candidatura, cosa l'ha motivata a percorrere questo percorso che è alquanto difficile e tortuoso amministrare una città come Marsala in un periodo di spending prevede, non è una cosa molto semplice. La città deve avere un sindaco, come mi sembra normale, un'amministrazione, perché in democrazia la città viene amministrata da un'amministrazione, quindi da un sindaco eletto dal popolo, che fa politica, che se fa politica non si fanno solo chiacchiere e basta, arriva il momento in cui se ci sono le condizioni tu devi metterci la faccia, la storia, la tua esperienza, la tua voglia di fare qualcosa per la tua città, io ho sempre inteso la politica a servizio dei cittadini, l'ho sempre fatta così, ma un po' anche il mio lavoro l'ho fatto in questo modo, a servizio della gente. Amministrare la città, certo, amministrare la città quando tutto va bene, quando ci sono soldi è una cosa più semplice di questo mondo, insomma, ci sono soldi, prendi soldi, li spendi e fai qualche cosa, sperando che siano così utili. Amministrare una città in tempi di crisi è una cosa molto più difficile, ma sicuramente bisogna mettersi in gioco proprio per questo, credo che sia giusto, quando la gente dicono ma la politica è un momento da parte, è un aspetto negativo, perché bisogna amministrare la città, se non ci sono le persone corrette, coerente e così via, la città sarà amministrata da altre. Io penso di dare una svolta a questa amministrazione, di cambiare un po' la città, perché è assurdo assistere a tutto quello che abbiamo, l'emigrazione dei giovani, la mancanza di servizi, certo, nessuna amministrazione pensa di creare tantissimi posti di lavoro, ma può creare servizi, questa è una città senza servizi, dalla viabilità, dai parcheggi, dagli autobus che non sappiamo quanto passano, dai rifiuti, dal raccolto ai rifiuti che non è molto differenziata, con un costo esagerato, 15 milioni è proprio una cosa esorbitante, che poi paghiamo noi, dalla sanità che non funziona, allora il mio impegno, come ho sempre detto anche in tempi dove non c'era la possibilità di candidarsi, è quella di fare qualcosa con una squadra nuova, il costo della politica, che è una cosa, anche quella abbastanza pesante, in un momento così grave dove la gente non sa cosa mangiare, quindi si può fare politica abbassando i costi, con un impegno a tempo pieno, perché non si può fare, non si può amministrare una città di 100 mila abitanti andandoci un giorno su, un giorno no, o poche ore della giornata, quindi io adesso da un anno sono in pensione, perciò ho tutto il tempo di dedicarmi alla nostra città. Ecco, ho detto un passaggio molto bello, si dà la possibilità, anche perché abbiamo visto gli anni passati, un po' le candidature venivano scelte diciamo all'alto, se non ne salto in buono della città, sono 20 anni in questa città, non si confronta con delle sindacature che nascono proprio tra la gente comune, tra il direttivo, tra la base di un partito. E questa volta invece ho insistito moltissimo perché si facessero le primarie di partito, e quindi tutta la gente, il primarie di partito che intendo che i candidati sono del PD, ma tutta la gente va a votare, quindi tutti i cittadini di questa città possono contribuire a scegliere tra Alberto Di Girolamo, segretario di questo partito, ma con una visione molto olaica e sicuramente fra la gente che parla con i cittadini tutti e altre, la professoressa Anna Maria Angelere oppure qualche altro candidato che ci sarà, perché è importante la partecipazione, è importante la partecipazione di giovani, di donne che sono sempre messe da parte, non ci sono più giovani in questa città, c'è una fuga di giovani incredibile, più dei miei tempi e questi sono giovani e poi la città diventa sempre più anziana, sempre più si chiude in se stessa, non c'è più attività, non solo ci sono attività lavorative ma anche attività culturale e bisogna far tornare Marsala centro motore di attività in senso generale, vita e democrazia e partecipazione, io farò di tutto perché i giovani e quelli che ci sono possono partecipare alla vita politica, la dimostrazione che ho insistito molto per fare le primarie per l'8 febbraio dove tutti possono partecipare, tutti e chiederò a tutte le persone di partecipare e scelgono loro che secondo loro nel centro-sinistra pensano che sia il candidato migliore per amministrare la città, amministrare la città nella massima legalità e nella massima trasparenza, chi conosce il bilancio di questo comune? penso poche persone, è perché non conoscerlo? Il comune non è semplice né dei funzionari, dei dirigenti o dei politici che stanno là, il bilancio del comune è della città e dei cittadini, il primo atto che farò è pubblicare frequentemente il bilancio di questa città, far sapere a tutti come si spendono i soldi, come entrano i soldi, perché entrano e perché si spendono e poi insieme decidere cosa è prioritario per questa città, sono prioritarie le feste, gioco d'artificio oppure probabilmente dei posti per l'asilo nido, la segnaletica, la pulizia delle strade, il turista quando arriva e speriamo che non arrivano sempre di più, ma è possibile che non trova dei bagni decenti? Mi sembra questo che sia il minimo in una città che dice che vive di turismo, perché io sono convinto, lo dico, l'ho sempre detto, i programmi di massima non si sposteranno né all'interno del centro-sinistra né con la destra, perché tutti parleremo di agricoltura, di turismo, bisogna vedere chi li fa, come si fanno e che cosa fai, io preferisco parlare delle piccole cose che sono quelle essenziali, che sicuramente come sono impegnato in questi mesi o in quest'anno che sono stato segretario a parlare e a fare, i parcheggi di questa città se ne parla da anni, ma c'è un traffico caotico, ci sono le macchine parcheggiate in seconda e terza fila, mi sembra normale in una città di 80 mila abitanti, una città pianeggiante dove non ci sono parcheggi, dove non si può camminare sui macciapiedi, perché i macciapiedi sono disastranti, dove non c'è la segnaletica, dove non ci sono i segnali per terra, gli stop non si vedono, succedono incidenti, in queste stadi, in questi mesi non successe tanti incidenti, ma forse ci possiamo chiedere, ma che se ci fosse più segnaletica, più segnali, potrebbe essere più incidenti, se i ragazzi portassero tutti il casco, se i vigi urbani ci fossero più vigi urbani in giro per la città, io non ne vedo tranché, se probabilmente chi passeggia con i cani in giro pulirebbero le strade quando i cani fanno il loro bisogno, invece ci sono delle città sporche, bisogna partire da queste cose, piccole che non sono piccole, ma sono importanti nella vita della città e fare in modo che questa città possa attrarre turisti, che i turisti debbano andare qua, fermarsi e creare lavoro. Occorre anche attingere le sinergie con Palermo, con Roma, con Bruxelles, perché oggi i soldi devono arrivare anche da altri posti, visto che la spending review non può essere basata solo sulla tassazione al cittadino. E diamo atto che lei nel corso del direttivo, i due giorni fa, ha criticato il governo Crocetta, attirando le ire del deputato manastadese Antonella Mirazzo e di Antonio Parinello, attualmente capo di gabinetto, perché c'è così tanta miopia, la politica nasconde che questa città è stata disattesa non solo dal governo Crocetta, ma diciamo dagli ultimi 3-4 governi? Io sono un uomo libero, sono stato sempre libero e quando penso a una cosa e vedo che le cose non vanno, le dico soprattutto a casa nostra. Non c'è dubbio che il governo Crocetta ha cercato di fare tanto, ha trovato una situazione drammatica, perché sicuramente i 50 mila dipendenti regionali non l'ha fatto Crocetta, su questo non c'è dubbio, però bisogna accettanto dire che dopo due anni arrotti del governo Crocetta la sanità ancora non funziona, è inutile dire che sta funzionando, sta facendo, lo ha cercato di farlo, ma non funziona la sanità, non mi sembra che l'ospedale di Marsala e la sanità dipendano dalla regione, quindi non è il compito degli altri, l'ospedale di Marsala non è che sta funzionando meglio rispetto ad altri, ci sono sempre pochi posti retti, pronto soccorso bisogna aspettare ore e ore, molto spesso per essere visitati, ma non certo per colpa dei medici che ci mettono impegno massimo, ma se c'è un solo medico, se i medici poi non trovano posto letto nell'ospedale e sono costretti a trasferire i pazienti in giro per la provincia o fuori provincia, dico questo diventa poi un problema, se per fare degli esami semplici, cardiologici o d'arte, c'è da aspettare sei mesi, ma questo non è paese civile e quindi bisogna dirlo, non è il fatto che io sono segretario del PD, devo dire che tutto va bene, perché tutto non va bene, io sono un libro pensatore, sono un cittadino che se vedo le cose che vanno male e le dico, se vedo le cose che vanno bene, non disconosco l'impegno che ci ha messo il governo Crocetta, ma la realtà è che purtroppo alcune cose non funzionano, le province che devono essere abolite e ancora ci sono i commissari, allora dire questo è l'esa maestà, assolutamente no, questo è il libro pensiero, essere critico con se stessi, io sono un critico molto spesso con me stesso, poi ci sono altri che invece debbano difendere a tutti i costi le cose che non possono essere difese e questo non va assolutamente bene, sono stato sempre un pensiero libero e continuano ad essere in questo modo, anche con quelli, con i miei vicini, perché altrimenti tu non devi criticare sempre gli altri, perché è troppo comodo, c'era Berlusconi e credevamo Berlusconi, c'erano gli altri al governo regionale che si criticavano, criticare Guffaro è semplice, ma fare le critiche in positivo, attenzione, critico non significa distruzione, significa attenzione, perché la sensazione a volte che se tutti ti circondi da amici che dicono che tutto va bene, alla fine non riesce a risolvere i problemi, il mio amico migliore è quello che mi dice, probabilmente bisogna fare qualcosa di diverso, quindi io la critica l'accetto e penso di fare la critica ai miei amici, perché Crocetta è il mio governatore, io l'ho votato, io ho fatto campagna elettorale, io ho preso 2.500 voti rispetto ad altri che ne hanno preso probabilmente di meno, Crocetta c'è anche grazie ai voti miei, che non sono miei, ma dei miei amici, dei marsalesi, a Marsala sono state 1.500, 1.700 persone che hanno dato a Crocetta tramite me. Abbiamo un passaggio, magari per chi non ricorda che lei è stato candidato al regionale, con il megafono, con la lista del Presidente Crocetta, quindi figurati, mi sono candidato perché c'è creduto alla rivoluzione, mi rendo conto che lui sta trovando delle difficoltà, ma bisogna dirlo, perché mi sono candidato, Crocetta è il nostro Presidente, attenzione, devo dire che tutto va bene, lui sta facendo la sua parte, ma non tutto va ancora bene. Invece la sua impressione sul governo nazionale, su questi tagli che hanno investito i comuni, che lei andrà a rappresentare, noi gli auguriamo, un comune che è la quinta città della Sicilia e con i tagli, la repressione economica, le difficoltà che le famiglie hanno, si prospetta una battaglia molto dura. Allora, se in Italia c'è una disoccupazione a 13,5% e quella giovanile del 40% e nel Meridione la disoccupazione oltre il 20% e quella giovanile oltre il 50-60%, non è certo colpa di Renzi che si sta muovendo in modo incredibile. Questo è un qualcosa che anche là, del passato, della situazione che la gente non ha fiducia, non investe, non ci sono investitori, quindi dico, noi dobbiamo dire sicuramente Renzi sta facendo abbastanza, sta facendo molto, sapendo che al governo da meno di un anno e quindi tu quando investi, cambia e così via, i risultati non ti vengono subito. Io mi auguro che nel 2015 cambia un po' la situazione nazionale, internazionale, il problema della disoccupazione purtroppo è un problema in generale, soprattutto nei paesi del Mediterraneo, quindi soprattutto l'Italia, la Grecia, lo vediamo, ma anche la Spagna. Soldi non ce ne sono più, ce ne sono pochi? Io penso che negli anni passati i comuni hanno sperperato abbastanza, la regione Sicilia l'abbiamo visto quando ha sperperato, invece di fare investimenti per creare lavoro, assunto persone che adesso non può pagare, questo è l'errore più grosso che ha fatto. I servizi è giusto che si pagano a livello locale, perché noi se paghiamo la raccolta dei rifiuti ce ne stiamo rendendo conto adesso, sicuramente è più quale rispetto agli anni precedenti, ma fin quando intervenivano a Roma i cittadini non si rendevano conto, tanto io pagavo poco perché il resto lo pagavano gli altri, ma lo pagavano gli altri sempre con le nostre tasse. Credo che sia giusto che tu paghi i tuoi servizi perché ti devi rendere conto che la luce per la strada costa, che raccoglie le immondizie a costa, sta all'amministrazione invece di farla pagare 15 milioni, farla costare, non pagare, costare 15 milioni e fare in modo che costa di meno, quindi essere più virtuosi un po' tutti, sia amministratori ma anche cittadini, fare la raccolta differenziata e pretendere che si faccia e fare in modo che il cittadino che ti porta la plastica, il vetro, tutte queste cose che si possono riciclare, abbia alla fine dell'anno uno sconto vero, non un premio, il premio è una cosa così, insomma una presa in giro, io più carta porto, più vetro porto, più plastica porto, devo avere uno sconto importante in modo da arrivare possibilmente a pagarne il 50% o ancora di meno, questo è l'impegno di una sana amministrazione, i servizi costano e si pagano a livello locale, mi sembra sacrosanto, sta a te cittadino come dicevo fare in modo che il bilancio sia pubblico, trasparente, tutti possono intervenire e dire il costo è tolto, come facciamo a far costare di meno? Facciamo finta che sono passate le primarie, che lei le ha vinte, siamo di fronte adesso alla scelta di una coalizione, con chi dialogherà Alberto Girolamo? Io lavoravo con quello con cui ho dialogato fino adesso, noi abbiamo fatto molti incontri all'interno del PD, quindi pubblicamente, non da nascosto e non facendo documenti nelle sedi fuori dal partito, fuori dalle sedi istituzionali, io mi sono incontrato, noi, non io, il Partito Democratico si è incontrato con il Partito Socialista, con l'UDC, con il Movimento di Pieno Venazzo, con gli altri consiglieri che si erano staccati dal sindaco Adamo, allora noi abbiamo parlato, ci siamo incontrati, abbiamo discusso di programmi, ma anche di questione morale, perché è una cosa molto importante, di come dovrebbe essere questo sindaco, come dicevo all'inizio, deve essere un sindaco a tempo pieno per la città, deve essere un sindaco che con tutta la sua amministrazione deve essere discordante con l'amministrazione precedente, perché l'amministrazione precedente, il giudizio che diamo alla maggior parte è che sicuramente non ha fatto molto per questa città, io dico sempre, chi si ricorda anche là, non è che bisogna difendere tutti i costi perché noi eravamo in maggioranza a dire che tutto va bene, perché la realtà è questa, nel 2013 sono stati spesi 800 mila euro per rimassare la città del vino europeo, ma non mi sembra che la gente si ricorda qualche cosa tranne un po' di feste, ma non mi sembra che sono arrivati più turisti, che sono rimasto qualche cosa, sono spesi 800 mila euro, nostri, dei cittadini, una parte regionale, una parte marsalese, allora dopodiché i servizi, allora in questa città non si sa che ora passano gli autobus, è una città territorio quindi abbiamo bisogno di autobus, ma se andiamo in campagna o viceversa, a che ora passano gli autobus? Lei lo sa a che ora passano gli autobus? No, il signore lo sa, no, ma non è possibile insomma, passano gli autobus. Le dico di più che i nostri ragazzi, i nostri figli non sono neanche che esistono gli autobus a Marsala, c'è chi abita in città, c'è anche una condizione di autobus. Ma quelli che abita in città, io mi preoccupo anche di quelli che abitano in periferia e che sono costretti a prendere l'autobus, perché chi abita in campagna in città non ha bisogno dell'autobus, a meno che non c'è la nonno o gli zii in periferia insomma, ma chi abita in periferia. Non c'è la cultura dell'autobus, a differenza di altre città ci si muove in autobus, a Marsala ci si muove in macchina, si muove in traffico. Ecco questo perché gli autobus non funzionano, lo smonco che fa sicuramente male. Allora se gli autobus funzionassero sapendo a che ora passano e quanto ritardo, ma questo è un minimo di civiltà. Nelle altre città italiane, non parliamo di Parigi, Londra o Bellino, da decenni, da 40 anni si sa a che ora passa e con quanto ritardo, due minuti, tre minuti. Poi ogni tanto la gente è in attesa, poi dopo qualche ora scopre che l'autobus forse non passerà più. Ma vi sembra Marsala civiltà questa. Allora impegniamoci su queste cose. Queste sono le cose importanti da fare alle città che servono ai cittadini, servono ai turisti, servono a tutti noi. Ecco, siamo in chiusura di questo spazio, volevo chiedere quali sono i primi tre punti o i tre punti essenziali che non potranno mancare dal suo futuro programma elettorale. Trasparenza, legalità, coinvolgere tutti, parlare con tutti perché non ci può essere un sindaco che risponde a chi a se stesso io faccio. Farò, mi occuperò oltre di queste cose di fare in modo che gli uffici funzioneranno alla luce del sole, che nessuno deve andare a chiedere favori, che tutto si svettisce in modo che chi fa una richiesta di qualche cosa abbia risposto nel giro di 24-48 ore, il tempo strettamente indispensabile, informatizzare tutti i comuni in modo che finalmente un certificato da una parte sappia tutto che funziona, chiedere degli investimenti, quindi investitori privati perché se la gente non investe, se il privato non investe diventa difficile, fare in modo che il porto pubblico privato, abbiamo visto che il porto soldi per il porto pubblico non ce ne sono, nonostante tutte le chiacchie recentemente, che il porto privato si faccia più presto con tutte le regole che possa creare lavoro subito e sviluppo nel futuro e occuparci di sanità perché la salute è fondamentale, non è vero che il sindaco non si può e non si deve occupare di sanità, l'ospedale è qua, questa è una città, tutti ci riempiamo la bocca, la quinta città della Sicilia, abbiamo un ospedale per fortuna nuovo e così via, dove ci andrebbero 250 posti letto, si potrebbero riempire perché le malattie ci sono, io non ci sono, io mi auguro da medio che la gente non si ammalano, ma purtroppo si ammalano le persone e quindi fare in modo che questa città abbia un ospedale funzionante, un pronto soccorso funzionante e che si dia risposte anche alle persone che hanno problemi oncologici che sono costrette ad andare fuori città, io sono riuscito a creare una cardiologia ben funzionante per tutta la provincia, mi auguro di poter fare qualcosa per la città e che in questa provincia e soprattutto a Massala nasca un centro di radioterapia funzionante, un'oncologia funzionante perché le malattie principali sono le malattie cardiologiche e le malattie oncologiche, le malattie cardiologiche la provincia di Trapane è ben preparata perché oggi la mortalità in provincia di Trapane, se la gente arriva velocemente in ospedale di Trapane e oggi con il centro del sistema del 118 si può arrivare, ma già io ci avevo provato a fare in modo che dalla provincia arrivassero nel giro di un'ora perché questo è l'obiettivo, chi sta male deve arrivare in un centro attrezzato, il più attrezzato, con più esperienza, tutta una serie di cose nel più breve tempo possibile, per fortuna c'è in provincia di Trapane, a Trapane in questo caso un centro cardiologico ben funzionante, mi auguro che anche a Massala nasca un centro oncologico, una radioterapia perché la gente si deve curare nella propria provincia quando meno e possibilmente nella propria città. Eccoci in chiusura, voglio ricordare che giovedì il termine massimo per la presentazione delle candidature all'interno del PD per le primarie e noi vogliamo esternare a lei e agli altri candidati che vi saranno, oltre a Maria Angeleri, la possibilità di poter soffrire la nostra televisione per poter presentare i vostri programmi e iniziative, ma anche l'idea di un confronto tra voi candidati, lei aderirà? Assolutamente sì, la democrazia, bisogna partecipare, la gente deve sapere cosa pensiamo noi, bisogna vederci tutti insieme e così anche guardandoci in faccia cosa pensiamo e qual è anche la nostra storia e cosa abbiamo fatto nel passato, perché le persone si riconoscono dal presente ma anche dal proprio passato, la propria storia gli dice come hai lavorato, che cosa hai fatto, se sei stato a servizio di, se hai lavorato per te stesso, se non hai mai lavorato, credo che sia molto importante questo, la mia storia è trasparente, tutti sanno come ho lavorato, ma il confronto non solo l'accetto, sarò io a chiederlo da segretario del partito, a chiederlo un confronto con gli altri competitor che saranno, poi vedremo domani pomeriggio, si saprà preciso quante persone ci sono e lo faremo a più presto su questo non c'è dubbio. Ricordiamo l'appuntamento con le primarie per domenica 8 febbraio, si potrà, nei seggi saranno istituiti, si potrà votare dall'età del 16 anni, se non erro, non necessita la tessa del partito in quanto l'elezione, essendo rivolta alla cittadinanza, chiunque può andare ad esprimere il proprio voto, invece volevo sottolineare, come ho fatto ieri anche con il candidato Algineri, la necessità, se è possibile, di evitare quel piccolo ovulo anche dei 2 euro, perché ci sono famiglie che anche 2 euro possono rappresentare un problema per un venire ad esprimere una propria preferenza. Noi faremo di tutto e i ragazzi mi hanno assicurato che ieri sera hanno preso una decisione perché c'è una commissione ad hoc che si occupa di queste cose, per evitare che il segretario possa essere… Peggio ne concorda, c'è una situazione economica… Assolutamente sì, ma lo sto dicendo, di fatto… Mi pare a un chilo di pane, per mettere le parole un po' povere, ma hanno esigenze in famiglia come non è… Credo che la decisione che ha preso questa commissione, che è bene risolta la commissione, non voglio assolutamente entrare sulla decisione della commissione, che è autonoma, è quella di una cosa gratuita, complessivamente volontaria, se qualcuno vuole lasciare qualche cosa, per le spese anche che ci possono essere, probabilmente faremo le primarie in luoghi non del PD, ma fuori e poi ci chiederanno anche di pagare la giornata, quindi per le spese mine, sapendo a tutti che in città, io sono segretario di questo, ho partito dall'alto, non è arrivata mai una lira, quindi tutte le spese che si fanno, tutte le iniziative che si fanno sono a pagamento degli iscritti, dei partecipanti. C'è un invito ai direttori didattici, al commissario straordinario a mettere a disposizione dei locali pubblici, visto che è una cosa che riguarda la città, evitare dei locali privati che possono mettere un affitto o un consumo di corrente elettrica o altre spese. No, lo chiederemo, però le cose che si chiedono è proprio per le spese minime, insomma, e che sarà, mi hanno detto, volontario, quindi questa dimostrazione, se c'è qualcuno che può pagare, non pagherà, se c'è qualcuno che vuole lasciare qualche cosa per le spese che ci saranno, lo lascia, credo che sia anche giusto la partecipazione, la democrazia ha un costo minimo, altrimenti sono gli altri a fare, chi ha soldi va avanti, non è assolutamente giusto, bisogna partecipare, ognuno con quello spirito, se posso dare un euro lo do, se non posso dare niente, no, però la cosa importante è che non venga pagato dagli altri, come spesso è successo nel passato, dove le tessere venivano pagate da altri, questa è la situazione assolutamente no, perché non va assolutamente bene, altrimenti si rischia che c'è gente che viene comprata e pagata per un pacco di pasta, io spero che non succeda e neanche la gente venga a votare, tranquillamente, serenamente, senza essere spinta ad andare a votare, io farò l'appello, come sto facendo, come ho fatto, che tutti vanno a votare senza spingere le persone dicendo, non ti preoccupare, ci porto io, assolutamente no, la gente deve venire spontaneamente con i propri piedi, con gli amici, ha una bella chiacchierata da farsi nel frattempo, andare a votare tranquillamente, senza scostringere nessuno, né ragazzi, né anziani, né altre situazioni, perché è vero che possiamo votare i sedicenni, ma mi auguro che i sedicenni vengano a votare liberamente e non costretti, perché… e non costretti. Ecco, dottore, le auguriamo meglio a De Maiore. Grazie. Grazie. Grazie.